Chiudete gli occhi, non vi distraete, mettete la mano sull'addome e controllate sempre il respiro. Il primo riconoscimento al demos degli attributi della sovranità si è per nel VII secolo a Chio, che è considerata dagli storici la prima democrazia greca. Andiamo in piedi in posizione quadrata. Voi due e voi due, queste sono le cose giuste? Ok. E andiamo, sentiamo. Uno, due, tre, quattro. Qui ad Atene noi facciamo così. Festiamo. Qui ad Atene noi facciamo così. E tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo. Bravo, meglio. Ho formata una squadra con i migliori architetti, scultori e operai atenisi. I cittadini di Atene si assicurarono al lavoro per oltre vent'anni, grazie a questa grande opera. Anche nella vita quotidiana, noi non siamo più pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo. Un cittadino atenese non trascura ai pubblici affari quando attende alle proprie faccende private. Ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private. 5, 6, 7, 8. The girls, cosa dobbiamo dire a me? The girls was bad. Ditemelo a me. The girls was bad. Pam, pam. The girls dangerous. Pam, 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 pam. Ah. The girls was bad. The girls dangerous. We both need help. You know you want me. Get the point? Good. Let's dance. 1, 2, 3, 4. Baby! Viscosa gli Atenesi. 431 avanti. Eccoci qua, signore e signori, buonasera. Questo è il Climax Drama Lab nel contest Pompeii Street Festival. Sono Luca Varone e ci siamo divertiti in questi dieci incontri e per la prima volta abbiamo avuto la possibilità di avere all'interno del Pompeii Street Festival anche la sezione teatro che quest'anno ha aperto presso lo Sharing Art.